Il 94% dei pugliesi dice no ai cibi in provetta coltivati in laboratorio, dalla carne al latte fino al pesce. E' quanto emerso dal sondaggio di Coldiretti Puglia, diffuso in occasione dell'avvio alla Camera dell'esame del disegno di legge del Governo, già approvato con modifiche dal Senato, che introduce il divieto di produrre e commercializzare cibi a base cellulare per uso alimentare o per i mangimi animali. Il 74% dei pugliesi, come si legge dal sondaggio, preferisce mangiare solo cibo naturale, coltivato e allevato in campi e stalle. Il 13% manifesta consistenti dubbi sul fatto che siano sicuri per la salute, mentre il 7% dei pugliesi lo boccia, poiché il cibo sintetico sfrutta comunque le cellule animali. Il disegno di legge del Governo è arrivato in risposta alla grande mobilitazione della Coldiretti, che ha portato alla raccolta di oltre 2 milioni di firme a sostegno del provvedimento con oltre 2.000 comuni. Per il tipo di processo e per gli ingredienti utilizzati vanno applicate le procedure autorizzative previste per i medicinali, che necessitano di prove sperimentali di almeno 10 anni, ha affermato la Coldiretti Puglia, considerato che dalle allergie ai tumori sono 53 i pericoli potenziali per la salute legati ai cibi prodotti in laboratorio, individuati nel documento delle due autorità mondiali. E per questo un'eventuale richiesta di autorizzazione alla commercializzazione che dovesse pervenire all'Unione Europea non potrebbe essere valutata con le procedure ordinarie dei novel food.